Cruise Control intelligente. Smart Cruise Control. Mantenere una distanza di frenata sicura dal veicolo che precede può salvare vite umane in caso di emergenza. Il nostro assistente per una guida comoda e il mantenimento della distanza di sicurezza si chiama Smart Cruise Control. L'SCC aiuta a mantenere la giusta distanza dal veicolo che precede e regolare la velocità in base alle condizioni del traffico. Ma partiamo dall'inizio. In che modo il nuovo Sportage rileva il traffico davanti al veicolo? A seconda del gruppo propulsore dell'auto, il sensore radar si trova al centro del paraurti anteriore o leggermente spostato a sinistra sul lato anteriore. Inoltre, la telecamera frontale del parabrezza rileva gli oggetti in movimento davanti all'auto. Il radar e la telecamera funzionano congiuntamente al fine di analizzare l'ambiente del traffico in modo ancora più preciso. Come attivare l'SCC nel veicolo Il sistema si attiva tramite il pulsante SCC sul lato destro del volante. Premendo il pulsante di distanza del veicolo, la distanza dall'auto che precede può essere impostata su quattro livelli. Il sistema funziona in un intervallo di velocità compreso fra 0 e 180 km all'ora e include una funzione di riavvio. Se il veicolo si ferma per più di tre secondi, il conducente deve premere il pedale dell'acceleratore oppure premere il pulsante SCC sul volante per continuare a guidare. Cruise Control Intelligente SCC Per una guida comoda e sicura in città e in autostrada con mantenimento intelligente della distanza di sicurezza.